Nessuno è emerso, io non riesco a fare niente, sono scarso. La scuola in sé ha un sacco di limiti e quindi se si possono creare occasioni per i ragazzi è importante. Le scelte dei percorsi da fare sono proprio adatti ai ragazzi e proprio per prepararli al loro futuro. Non è il gioco solo in sé, ci sono tante cose da fare, si cresce insieme quando si fa Xelium Team.